ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare sedatol e gspa società del gruppo stad arzmi mitel ag ultimo aggiornamento 25 ottobre 2019 immagine sedatol a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso componenti e ingredienti a cosa serve sedatol è un parafarmaco appartenente alla categoria degli integratori per il benessere della gola è commercializzato in italia dall'azienda e gspa società del gruppo stad arzmi mitel ag informazioni commerciali titolare e gspa società del gruppo stad arzmi mitel ag concessionario e gspa società del gruppo stad arzmi mitel ag categoria di appartenenza integratori per il benessere della gola forma farmaceutica sciroppo confezioni sedatol integratore sciroppo 150 ml indicazioni favorisce migliora il riposo notturno grazie alla sua composizione naturale specificatamente studiata modalità d'uso bambini da 1 a 3 anni 5 ml al giorno dai 4 anni 10 ml al giorno componenti e ingredienti saccarosio acqua aromi zinco gluconato melissa melissa officinalis l foglie estratto secco contiene maltodestrine lavanda lavandola officinalis erba estratto secco contiene maltodestrine camomilla matricaria recutita l foglie estratto secco contiene maltodestrine passiflora passiflora incarnata l fiori barra erba estratto secco contiene maltodestrine conservanti potassio assorbato acidificante acido citrico vitamine b6 cloridato di piridossina fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato